Mi sono recata la scorsa settimana all'ospedale di Pesaro per prendere due appuntamenti, uno per una risonanza magnetica lombosacrale e uno per una visita neurochirurgica per mio babbo, che al momento si trova a casa con un tutore ortopedico a causa di una caduta accidentale. Mi hanno subito detto che dovevo presentare le due impegnative del medico di famiglia quando avevo in mano già tutta la documentazione del pronto soccorso che mi attestava che mio babbo doveva ripresentarsi in ospedale dalle 4 alle 6 settimane dall'accaduto per fare la risonanza magnetica e la visita neurochirurgica. Chiaramente mi sono dovuta recare dal mio medico di famiglia per farmi fare queste impegnative, ma nel momento in cui mi sono recata nuovamente in ospedale mi hanno detto che non c'era appuntamento per una risonanza magnetica. Mi hanno detto proprio così che non sapevano dove mandarmi né tantomeno quanto farmela fare e io ho dovuto prenotare fuori regione. Il secondo inghippo è successo nel momento in cui ho chiesto l'appuntamento per una visita neurochirurgica, anche qui mi hanno detto che non c'erano appuntamenti disponibili. Se non che mi hanno detto signora lei ha una possibilità in più se dal suo medico di famiglia si fa fare l'impegnativa anziché a 60 giorni, a 10 giorni. Così ho fatto, ma mi hanno detto pure di tornare il giorno successivo alle 7.45 della mattina perché di prima mattina avrei avuto sicuramente l'appuntamento. Così è stato, l'appuntamento l'ho avuto, ma però ho pagamento. Ecco, questa volevo concludere il tutto dicendo che ora mio babbo per fare una risonanza magnetica lombosacrale e una visita neurochirurgica ci impiegherà due giorni, in due mesi diversi, in due città diverse, in due regioni diverse. Questa è la sanità italiana. Auguro a tutti di non stare male.